Quello che state per vedere è la ricostruzione di un fatto realmente accaduto. E' la storia di un ragazzo come tanti, misteriosamente sconso. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Ha detto, guarda, non mi sento molto bene. Aveva bevuto il Gatorade, nel senso che forse è molto freddo appena rientrato. Forse era accaldato. E questo è quello che è rimasto. Nel senso che l'abbiamo conservato, l'abbiamo lasciato così com'era. E niente, ho già detto tutto, ho entrato in bagno e poi non l'ho più visto. Io vedo, io lo conoscevo abbastanza bene, giocavamo spesso a pallone, giravamo la squadra, quasi eravamo pure a scanizza, potremmo vedere. E quello che mi ricordo è che niente, stavamo insieme, lui si è bevuto questa cosa, si è sentito molto bene e poi io non ho più visto. E' il 38 novembre del 2002 e i tre amici tornano a casa dopo una partita a calcetto che avevano perso. Ma giunti sull'uscio, Tigre viene colto da uno dei suoi fastidiosi svenimenti improvvisi. Poco dopo, nella casa, arriva anche Caciara, il quale, a cortesi delle condizioni fisiche del Tigre, suggerisce l'integrazione con dei sali minerali, con una bottiglia di Gatorade. Ma forse, proprio questa scelta si rivelerà la più sbagliata. Oh, ma se ne rivela che si rivela un'altra volta. Porco giù, no. Ma che ti è successo? Non è possibile stare così? È la stanchezza. Ma dai. Ma prendete qualcosa, prendete un po' di sali, ne mancano un po' di sali, non vedete qualcosa. Così, c'è qualche cosa. C'è il messaggio del ghetto che è in cucina, aspetta. Vedi un po', weh. Aspetta. Guarda, vedi un po' di sali. Oh, per fortuna, grazie. Guarda che sto fa. Eh, io puo stare così, eh. Non è mica bello quello che tu c'hai. Si rivelerà la più sbagliata. Allora, mi devo provare a prendere? Sì. Ma lasciate un boccetto? Eh, no, è finito. C'è un po' di freddo, eh. Un po'. Ma con boccio, mi ha lasciato? Niente, sì. C'è stato un consorso qui. Succo di frutta, acqua, niente. Senti, che giochi c'hai? Eh, c'è un po' di rimpiazzate. Guarda un po'. Non c'è. Scascio il gioco delle manchi. Allora, ragazzi, aspettate che vengo pure io. Vengo a farmi una partitella pure io, dai. Oh, dai, io, che squadra devi? Ma la scema da caso, dai, che è uguale. Ma, il tre. Ti viene io, eh. Fa molto tempo per me, ma la faccio. Ma che c'hai io? Sì, che roba. Una cosa che credito, vabbè, stai a fare. Ma che stai a fare? E dove vuoi stare? Ma tene al bagno? Fatene al bagno? Ma che stai? Ma che stai? Una cosa incredibile? Un po' di schifo. Ma che la partita non ha fatto? Dai, vetti te al bagno, va. dai dai spazio spazio spezia di gambe non si può fare quanti hai fatto prima? mi sembra di essere duro cosa succede? cosa succede? cazzo Sandro oh Sandro Sandro oi Sandro oi 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 Sandro oi oi oico 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 Grazie a tutti.